Il primo anno tra i professionisti Il anno scorso sono andato a Imola in prestito, ho fatto un'annata per farmi le ossa e spero di essere pronto tra i professionisti per dare il meglio di me. Ringrazio innanzitutto la società, il mio procuratore per questo progetto e spero di dare il meglio per la squadra e per la città. Sì, ero svincolato e mi sono allenato comunque da solo, però non è mai come un ritiro vero e proprio in una società professionistica, di conseguenza cercherò nel breve tempo possibile di arrivare alla forma che hanno gli altri ragazzi. Sì, comunque sono i primi giorni e adesso piano piano cercherò di ambientarmi un po' con tutti, nonostante ciò sono stati molto accoglienti i ragazzi, per quanto riguarda le mie caratteristiche mi piace fare la fascia, sono uno di corsa, posso adattarmi anche da terzino, però diciamo che il ruolo che preferisco è fare il quinto. In mattinata avevamo fatto un po' di tattica, avevamo testato alcuni schemi e dopo nel pomeriggio ho cercato subito di metterli in pratica nei primi 30 minuti che ho fatto quest'anno. Sono contento, dovevo prendere il ritmo partita, piano piano cercherò di prenderlo al meglio. Grazie. Grazie.